la lavagna dello chef presenta pizza gourmet la mia preferita è spettacolare in descrizione troverete come realizzare il nostro super impasto e tutti gli ingredienti guardate che morbidezza si stende in modo semplice con l'aiuto delle sole mani con il peso dell'impasto lavoriamo la pasta e la allarghiamo poi la posizioniamo in una teglia pizza bianca con olio extravergine di oliva mozzarella a volontà fior di latte preferibilmente provola e andiamo in forno a 240 gradi per 20 minuti controlliamo che sia ben cotta sotto prima di sfornarla tagliamo il radicchio a pezzettini così molto finemente ed ecco qui pronta spettacolare la guarniamo con salame toscano e radicchio a volontà un bel filo d'olio extravergine d'oliva ed è pronta in tavola tagliamo e andiamo con la prova del 9 della nostra super pizza trevigiana mamma mia che è spettacolare